Questo materiale si chiama midollino, si ottiene dalla parte interna della canna d'India ed esiste di diversi diametri. Va inumidito il tanto indispensabile e al momento, se l'acqua è calda, si fa prima. Per farlo flettere opportunamente, bisogna strizzarlo. Abbiamo studiato il sistema di impagliare la bottiglia partendo da su, cioè in generale il cestino si fa prima il fondo e poi l'intreccio. Noi invece abbiamo studiato il sistema, diciamo didattico per far lavorare i bambini, partendo da su, cioè partendo dalla parte fine della bottiglia. A mano a mano che l'intreccio procede, scivola per forza propria verso su. Acchiappa l'ultimo filo che avevo lasciato e li accoppio. Quindi avevo delle coppie, tutte coppie di due. Ecco qua. Allora io vedi, passo il filo, l'intreccio davanti al precedente. I fili a ogni passaggio fanno questo lavoro qua. Quindi sono attorcigliati fra di loro, come se facessi una corda. Per fare un certo tipo di lavoro mi serve non un multiplo di tre pari, come ho detto. Insomma per capirci ho 12 che non mi va bene, quindi lo faccio diventare 14. Quindi faccio così. Questo è lo stesso materiale delle sedie. Quando si arriva giù, tessendo, si applica il fondo, cioè il fondo viene fatto a parte, si incrocia, si incastra opportunamente, poi si fa un bordo e la bottiglia è finita. Sono partito con una croce, formata da sette bacchettine. Dopo aver fatto due giri di intreccio incomincio a separare. Adesso separo ulteriormente. e ottengo 14 raggi. Adesso lo inserisco. in ogni intervallo dell'ordizzo faccio andare un raggio. in ogni intervallo dell'ordizzo faccio. in ogni intervallo dell'ordizzo faccio. in ogni intervallo dell'ordizzo faccio No, 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 no. Prendo un raggio, lo mando così, prendendo l'ultimo blocco quello di prima e lo infilo sotto, questo qui lo infilo sotto il primo quindi si sono autobloccati giusto? Quindi adesso prendo questi, ne prendo uno sopra e sotto, sopra e sotto quindi si bloccano l'un l'altro ecco, quando ho finito il giro sollevo il primo quindi sono bloccati però di questi giri, anche quando chiudo un cestino, ne posso fare tanti in questo caso ne faccio due, due giri sempre nella stessa maniera ecco qua, vedi? questo è finito grazie a tutti grazie a tutti